Attenzione, questo libro è stato pubblicato per la prima volta in Francia nel 1895, in uno dei momenti di massima espansione del colonialismo e dell'imperialismo francese. Alcune delle teorie e delle posizioni prese da Le Bon in questo libro sono considerate oggi prive del carattere di scientificità a cui l'autore stesso fa riferimento. Ciò nonostante, Psicologia delle folle rimane un testo che ha indubbiamente segnato la storia della psicologia sociale e della sociologia del ventesimo secolo e questo lo rende un libro cruciale per ogni persona che ambisca a conoscere i segreti della manipolazione delle masse. Per facilitarti nello sforzo di contestualizzazione storica di questo libro, l'edizione a cui fare riferimento è quella di Ibex Edizioni. Questa è l'unica versione italiana di Psicologia delle folle nella quale le idee di Le Bon ancora valide oggi vengono messe in prospettiva nell'attuale era digitale. Questa versione, tradotta da Jofu Magalli, è disponibile in formato Kindle, paperback e a copertina rigida su Amazon al link in descrizione. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare le notifiche per non perderti i prossimi capitoli. Capitolo 1. Le caratteristiche generali delle folle. La legge psicologica dell'unità mentale delle folle. Dal punto di vista psicologico, l'espressione folla assume un significato assai diverso rispetto all'idea di massa di individui qualunque. In talune circostanze prestabilite, e soltanto in tali circostanze, un agglomeramento di uomini possiede caratteri nuovi, molto diversi da quelli degli individui di cui esso è composto. La singola personalità cosciente svanisce, mentre i sentimenti e le idee di tutte le individualità si orientano in una stessa direzione. Si forma un'anima collettiva, senza dubbio limitata nel tempo, ma che presenta caratteri ben precisi. Questa collettività diventa allora quello che, in mancanza di una migliore espressione, io chiamerei una folla organizzata, o se lo preferite, una folla psicologica. Essa si configura come un'unica unità e si trova sottomessa alla legge dell'unità mentale delle folle. Il fatto che molti individui si trovino accidentalmente gomito a gomito non conferisce loro la qualifica di folla organizzata. Mille individui riuniti per caso su una pubblica piazza, senza alcuno scopo determinato, non costituiscono affatto quello che io definisco folla psicologica. Perché acquistino questa particolare qualifica, occorre l'influenza di alcuni stimolanti esterni, che approfondiremo di seguito. L'annientamento dell'individualità cosciente e l'orientamento dei sentimenti e dei pensieri in un'unica direzione sono i primi elementi riscontrabili in una folla che si sta formando, ma questi tuttavia non sempre implicano la presenza simultanea di parecchi individui in un solo punto. Migliaia di individui separati, in un dato momento, sotto l'influenza di emozioni violente, come ad esempio un grande avvenimento di portata nazionale, possono acquistare i caratteri di una folla psicologica. Affinché la loro condotta acquisisca subito le peculiarità dell'azione delle folle, basterà che qualcosa unisca queste persone. In certi particolari momenti storici, una mezza dozzina di uomini possono costituire una folla psicologica, mentre un altro centinaio di individui riuniti insieme accidentalmente non costituiscono invece una folla. Lo stesso può succedere anche per un popolo intero, il quale, senza un'agglomerazione visibile, può comunque diventare folla sotto l'azione di questa o quella influenza. Non appena una folla psicologica si forma, essa acquista caratteristiche generali provvisorie, ma ben definite. A queste caratteristiche generali si aggiungono caratteristiche particolari che differiscono a seconda degli elementi di cui la folla è composta e che possono modificare la sua struttura mentale. Le folle psicologiche sono quindi classificabili e lo studio di questa classificazione evidenzia da un lato l'esistenza di folle eterogenee, ovvero composte da elementi differenti tra loro, e dall'altro di folle omogenee, come ad esempio sette, caste e classi, ovvero gruppi composti da elementi più o meno simili fra loro, ma con particolarità specifiche che permettono una differenziazione. Prima di occuparci delle diverse categorie delle folle, partiamo dall'analisi di quei caratteri che tutte le folle hanno in comune. Procederemo proprio come il naturalista, cominciando a determinare i caratteri generali degli individui di una famiglia, poi caratteri particolari che differenziano i generi e le specie, compresi in quella famiglia specifica. L'anima delle folle non è qualcosa che si descrive facilmente, perché la sua costituzione varia non solo secondo la razza e la composizione della massa collettiva di individualità di cui è composta, ma anche secondo la natura e il livello degli stimoli che esse subiscono. Del resto, la stessa difficoltà si presenta anche per lo studio di un qualsiasi individuo dal punto di vista psicologico. È solo nei romanzi che gli individui mantengono un carattere costante, ma di certo lo stesso non vale per la vita reale, perché caratteri apparentemente uguali nella vita reale possono rivelarsi completamente differenti se inseriti in ambienti diversi. Del resto, ho già dimostrato altrove che tutte le tipologie di costituzioni mentali contengono caratteri in potenza che potrebbero manifestarsi all'improvviso, al verificarsi di un improvviso cambiamento di ambiente. È così che tra i più feroci membri della Convenzione si trovano inoffensivi borghesi che in circostanze ordinarie sarebbero stati pacifici notai o virtuosi magistrati. Passata la tempesta, essi ripresero il loro carattere normale, al punto che Napoleone trovò fra loro i servitori più mansueti. Esamineremo in questa sede le folle nella loro fase organizzativa completa, non potendo studiare in questo saggio la totalità delle tappe che portano alla costituzione di una folla. Analizzeremo quindi solo uno stadio evolutivo completo della folla, che non coincide con la totalità delle esperienze di folla che possono verificarsi. È solo in questa fase organizzativa avanzata, che i nuovi tratti specifici si possono sedimentare su una base costante, dominante e dipendente della razza, ed è solo in questa fase che si uniformano tutti i sentimenti e tutti i pensieri della collettività, orientandosi in una identica direzione. Soltanto allora si manifesta ciò che ho citato prima come la legge psicologica dell'unità mentale delle folle. Diversi caratteri psicologici delle folle sono comuni a quelli dei singoli individui, altri invece si riscontrano solo nella dimensione collettiva. Inizieremo analizzando questi caratteri speciali, al fine di mostrarne l'importanza. L'aspetto più saliente che contraddistingue una folla psicologica è il seguente. Indipendentemente da quali siano gli individui che la compongono, indipendentemente dal fatto che abbiano stili di vita simili, occupazioni simili, caratteri o intelligenze simili, il solo fatto di essersi riuniti in folla li rende partecipi di un'anima collettiva. Quest'anima li fa sentire, pensare e agire in un modo completamente diverso da come sentirebbero, penserebbero e opererebbero isolatamente nella propria individualità. Certe idee e certi sentimenti non sarebbero potuti nascere o non si sarebbero potuti trasformare in azioni se gli individui di riferimento non si fossero trovati in folla. La folla psicologica è un essere provvisorio, composto di elementi eterogenei che si uniscono fra loro solo momentaneamente, proprio come le cellule di un corpo vivente che con la loro unione formano un essere umano, il quale manifesta caratteri assai diversi da quelli che ognuna di quelle cellule possiede. Contrariamente all'opinione di un filosofo così acuto come Herbert Spencer, opinione di cui prendiamo nota con stupore, nell'aggregazione da cui scaturisce una folla non esiste una sommatoria o media di elementi, ma questa si manifesta come una combinazione di nuovi caratteri, esattamente come avviene nei fenomeni chimici. Certi elementi, mescolati gli uni con gli altri, come ad esempio si fa con basi ed acidi, si combinano per formare un nuovo corpo dotato di proprietà differenti da quelle dei corpi che sono stati necessari per comporlo. È facile constatare come l'individuo inserito all'interno della folla differisca dall'individuo isolato, ma le cause di questa differenza sono più difficili da scoprire. Per iniziare ad intravederle bisogna ricordare prima di tutto quest'osservazione della psicologia moderna. Non è solo nella vita organica che i fenomeni incoscienti giocano un ruolo fondamentale, ma anche nel funzionamento dell'intelligenza. La vita cosciente dello spirito non rappresenta che una piccolissima parte in confronto alla sua vita incosciente. Il ricercatore più acuto e l'osservatore più attento non arrivano a scoprire che è un ben piccolo numero di movimenti incoscienti fra quelli che guidano lo spirito. I nostri atti consci derivano da un substrato inconscio formato principalmente da influenze ereditarie, e questo substrato è formato dagli innumerevoli residui atavici che costituiscono l'anima della razza. Dietro le cause palesi dei nostri atti si trovano cause segrete al di fuori della nostra coscienza. La maggior parte delle nostre azioni quotidiane sono effetto di motivazioni nascoste che ci sfuggono. Tutti gli individui di una razza si assomigliano principalmente a causa degli elementi subconsci che ne compongono l'anima, mentre essi differiscono per via degli elementi consci, frutto dell'educazione ma soprattutto di un'eredità particolare. Gli uomini più diversi fra loro per intelligenza hanno istinti, passioni, sentimenti a volte identici e in tutto ciò che è materia di sentimento, ovvero ragione, politica, morale, affezioni, antipatie, eccetera, gli individui più eminenti superano solo raramente il livello degli individui comuni. Tra un celebre matematico e il suo calzolaio ci potrà anche essere un abisso sul profilo intellettuale, ma dal punto di vista del carattere e delle credenze la differenza è spesso lievissima o addirittura nulla. Ora, queste qualità generiche del carattere guidate dall'inconscio e possedute più o meno nello stesso modo dalla maggior parte degli individui normali di una razza sono precisamente quelle che vengono condivise. Nell'anima collettiva le attitudini intellettuali degli uomini e di conseguenza la loro individualità si cancellano, l'eterogeneo si mescola nell'omogeneo e le qualità inconsce prevalgono. Ed è questa condivisione delle qualità ordinarie che ci spiega perché le folle non saprebbero compiere atti per cui è necessaria un'intelligenza elevata. Le decisioni di interesse generale prese da un'assemblea di uomini scelti ma specializzati in ambiti differenti non sono sensibilmente superiori alle decisioni che prenderebbe un consiglio di imbecilli. Infatti all'atto pratico essi possono condividere soltanto le qualità mediocri che tutti posseggono ed è per questo motivo che le folle accumulano la mediocrità e non l'intelligenza. Non è certo come si sente ripetere, ovvero che tutto il mondo sia più intelligente di Voltaire, ma è vero il contrario. È Voltaire ad essere più intelligente del mondo intero se per mondo intero intendiamo le folle. Ma se gli individui riuniti in una folla si limitano a fondere le loro qualità comuni vi sarebbe semplicemente media e non come abbiamo detto creazione di caratteri nuovi. In qual modo si formano questi caratteri? È quanto ci apprestiamo ad approfondire. La comparsa dei caratteri particolari nelle folle è determinata da differenti fattori. Il primo fattore consiste nel sentimento di invincibilità che gli individui provano all'interno della folla, sentimento dovuto esclusivamente all'elevato numero di cui si fa parte e che permette loro di cedere a istinti che isolati sarebbero riusciti a frenare. L'individuo cederà più volentieri in quanto membro della folla, essendo essa anonima e di conseguenza irresponsabile, facendo scomparire così quel senso di responsabilità che da sempre trattiene gli individui. Un secondo fattore che concorre in ugual modo al manifestarsi di caratteri speciali delle folle e nello stesso tempo concorre anche nel determinare il loro orientamento è il contagio mentale. Il contagio è un fenomeno facile a constatarsi, ma non ancora spiegato e che va ricollegato ai fenomeni di ordine ipnotico, che noi tra poco analizzeremo. In una folla ogni sentimento, ogni atto è contagioso a tal punto che l'individuo sacrifica il suo interesse personale, sostituendolo con l'interesse collettivo. Si tratta di un'attitudine contraria alla natura normale delle persone e di cui l'uomo diventa capace solo quando fa parte di una folla. Un terzo fattore assai più importante è in grado di determinare negli individui di una folla delle caratteristiche particolari, a volte anche diametralmente opposte a quelle dell'individuo isolato. Stiamo parlando della sua facile suggestionabilità, di cui il contagio appena menzionato non è altro che un effetto. Per capire questo fenomeno bisogna essere a conoscenza di certe recenti scoperte della psicologia. Oggi noi sappiamo che con determinati sistemi un individuo può essere indotto ad abdicare alla propria personalità cosciente e a sottomettersi alla volontà dell'operatore che gliel'ha fatta perdere, commettendo così gli atti più contrari al suo carattere e alle sue abitudini. Delle attente osservazioni sembrano provare che l'individuo, immerso da qualche tempo in mezzo ad una folla in fermento, cade in breve tempo in uno stato particolare, molto simile allo stato di ammaliazione che prova l'ipnotizzato tra le mani del suo ipnotizzatore. Dal momento che l'attività del cervello dell'ipnotizzato viene messa in pausa, egli diventa schiavo di tutte le attività incoscienti che l'ipnotizzatore dirige a suo piacimento. La personalità cosciente svanisce, la volontà e la capacità di giudizio vengono aboliti. Sentimenti e pensieri vengono così orientati nel senso voluto dall'ipnotizzatore. Questo è verosimilmente lo stesso stato in cui si trova l'individuo inserito in una folla. Egli non è più cosciente dei suoi atti. Mentre certe facoltà scompaiono in lui proprio come scompaiono nell'ipnotizzato, altre possono essere esaltate in maniera estrema. L'influenza di una suggestione è in grado di lanciarlo con un impeto irrefrenabile verso il compimento di certi atti. Impetuosità ancora più irresistibile nelle folle che nei soggetti ipnotizzati, perché in questo caso la suggestione straripa diventando reciproca, essendo appunto la medesima per tutti gli individui. Gli individui di una folla che possiedono una personalità abbastanza forte per resistere alla suggestione si trovano in minoranza e sono per forza di cose trascinati dalla corrente. Al massimo è concesso loro di tentare una deviazione verso una suggestione differente. Una parola giusta detta al momento giusto, piuttosto che l'evocazione di un'immagine particolare, sono deviazioni che si sono dimostrate in grado di sviare la folla dagli atti più sanguinari. Riassumendo, annientamento progressivo della personalità conscia, predominio della personalità inconscia, direzione affidata alla suggestione e al contagio dei sentimenti e delle idee orientate in un medesimo senso, tendenza a trasformare immediatamente in atti le idee suggerite. Queste sono le principali caratteristiche dell'individuo inserito in un contesto di folla. Egli non è più se stesso, ma diventa un automa, incapace di dirigere la propria volontà. Va detto che per il solo fatto di far parte di una folla, l'uomo discende di parecchi scalini la scala della civiltà. Se egli fosse un individuo isolato, potrebbe anche essere un individuo occolto, ma nella folla egli diventa un essere impulsivo e di conseguenza un barbaro. Egli presenta la spontaneità, la violenza, la ferocia, così come gli entusiasmi e gli eroismi tipici degli esseri primitivi. Diventa simile ad essi anche per la facilità con cui si lascia impressionare da parole e immagini, e per la facilità con cui si lascia guidare in atti che ledono i suoi interessi più evidenti. L'individuo della folla non è che un granello di sabbia in mezzo ad altri granelli di sabbia sollevati dal vento a piacimento. E così assistiamo a giurie che emettono verdetti che ogni giurato non emetterebbe mai se dovesse prendere la decisione da solo. O assistiamo ad assemblee parlamentari che approvano leggi e provvedimenti che ognuno dei membri che le compongono non approverebbe mai individualmente. Presi separatamente, gli uomini della convenzione non erano che borghesi dalle abitudini miti. Riuniti in folla, invece, sotto l'influenza di qualche demagogo, non esitarono a mandare alla ghigliottina anche individui evidentemente innocenti, e in contrasto con qualsiasi tipo di interesse di categoria, rinunciarono alla loro inviolabilità e si decimarono tra loro. Ma non è solo per le azioni che l'individuo inserito nella folla differisce dall'individuo nella sua normalità. Ancor prima di aver ceduto ogni indipendenza, le sue idee e i suoi sentimenti si sono trasformati al punto da trasformare l'avaro in prodigo, lo scettico in credente, l'onesto in delinquente, il codardo in eroe. La rinuncia a tutti i suoi privilegi, votata dalla nobiltà in un momento di entusiasmo nella famosa notte del 4 agosto 1789, non sarebbe stata sicuramente mai accettata da nessuno dei suoi membri, presi isolatamente. Dalle osservazioni precedenti possiamo concludere che la folla è sempre intellettualmente inferiore al singolo individuo isolato. Tuttavia, dal punto di vista dei sentimenti e delle azioni che questi sentimenti determinano, essa può, a seconda delle circostanze, essere peggiore o migliore. Tutto dipende da come essa viene suggestionata e ciò rappresenta quello che si sono persi gli autori che hanno studiato le folle solo dal punto di vista criminale. Certo, spesso esse sono entità criminali, ma di frequente si dimostrano anche eroiche. Le folle si fanno condurre facilmente al martirio per il trionfo di una fede o di un'idea, si entusiasmano per la gloria e l'onore, si conducono quasi senza pane e senza armi, come nelle crociate, per liberare dagli infedeli la tomba di un dio o, come nel 93, per difendere il suolo nazionale. Eroismi sicuramente incoscienti, almeno in parte, ma è con questo tipo di eroismi che si fa la storia. Se si dovessero mettere all'attivo dei popoli soltanto le grandi azioni ragionate a mente fredda, gli annali del mondo ne registrerebbero ben poche.